A Rocca Bianca nel corso dell'ultimo fine settimana si è chiusa l'edizione 2017 di November Pork, speriamoci sia la nebbia, la staffetta più colosa d'Italia che si è spostata in ognuno dei precedenti weekend da Sissa, Apolesine, Parmense e Azibello. A Rocca Bianca domenica scorsa ha riaperto il mercato delle eccellenze, armonia di spezie ed infusi e quello natalizio, aria di Natale, intrattenimenti musicali e assaggi di specialità della bassa parmense e di eccellenze di tante aree al top italiane che hanno accompagnato i visitatori fino al Palapork, una capiente tenso struttura riscaldata con i piatti predisposti secondo le ricette della tradizione. Il November Pork 2017 si chiude con un bilancio estremamente positivo, è stato l'anno dei record in tutte le manifestazioni fino a qui a Rocca Bianca. Ieri a Rocca Bianca abbiamo avuto un po' di pioggia che ha un po' rovinato la festa finale ma oggi ci siamo ripresi perché il sole ci ha graziato anche oggi e siamo qui in piazza Rocca Bianca con tante persone provenienti da tutta Italia come ormai è consueto e andiamo avanti così sperando che anche il 2018 sia un successo come quello pari o di più del 2017. Rocca Bianca, la specialità grossa Maxi è la cicciolata più grossa del mondo, anche quest'anno un mostro di grandezza distribuito gratuitamente a tutti i presenti con la polenta che anche qui cicciolate e polenta erano un po' il sostegno dei nostri contadini come di parecchi contadini nel nord Italia. Quindi una merenda sana fatta dai nostri norcini di Rocca Bianca e molto molto apprezzata da tutti. Il prossimo anno ancora incentiveremo ancora quello che è l'incamin dall'estero perché ci saranno dei progetti anche per chi i nostri graditi ospiti dall'estero per agevolarli sempre di più a venire a scoprire una manifestazione che è fatta di tradizioni locali ma è fatta anche di eccellenze italiane che sono gli espositori che ringrazio già fin da subito per queste quattro settimane meravigliose con noi del nostro mercato di prodotti tipici.